Due minuti, state comune, state comune. Sera, che si dice a quel tipo di ralas? Lo faccio io già in ralas. Le possiamo approfittare di questo vostro piccolo momento di ralas. Possiamo offrirle per intanto qualcosa, un caffè. Vi ringrazio, siete molto gentili. Ma il piacere di fare con noi, diciamo che siamo arrivati a metà dell'estate, di cominciarne a facciare un piccolo bilancio. Noi ci siamo accorti di tratto di internamenti e passi decisivi. Sembra che lo scogliono. Non dico che lo abbiamo superato e aggirato, ma sopra. Vedere un po' tutti con le mascherine, vedere un po' e poi soprattutto un fermo gigante, sinceramente questa fece ci delizia da noi. Perfetto. È stata un'opzione molto gratita sia dagli ospiti, alla Pellese, e tutta la costa da Marti, ovviamente con beneficiare, atteso il piccolo spazio che abbiamo nelle tribune perché non più di 130 persone possiamo ospitare. Quindi è stata una scommessa che effettivamente ritengo che sia stata vinta perché abbiamo combattuto dall'inizio per portare avanti questo festival. Non avremmo voluto che si sospendesse un'altra volta, perché si sono sospesi durante la guerra. Quindi abbiamo dato continuità a questa nostra stagione. Anche il programma ci è perso particolarmente allettante, soprattutto in, questa la possiamo definire, una delle serate clou. Non è solo questa, ma insieme alle altre fanno veramente e riccamente un gran, bel bouquet perché questa festival orchestra di Budapest è qualcosa di eccezionale. La conosciamo negli anni addietro, non ricordo come e quando, ma è stata già qua precedentemente. Allora, io ritengo che questo sia uno dei migliori festival in assoluto, per valità, ovviamente, perché abbiamo avuto tantissimi orchestri, stasera ce ne abbiamo altre, poi avremo addirittura Monchi, un'altra volta che verrà tra l'auditorio, che verrà tra l'auditorio, quindi stiamo facendo il possibile per dare un'immagine fortissima, non solo di la vetro, ma della costa dell'autorio, quindi questo ci dovrebbe uditare. Con la direzione artistica, come chiamo appunto, subito già dalla prima serata, dice questo è il festival più lungo. Perfetto. Però, insomma, si sta rivelando anche quello nel panorama nazionale italiano, perché qua se ci guardiamo in giro troviamo una serie di fuochi di paglie che in uno o due weekend bruciano tutte le loro energie. Qua invece, che cosa significa dare lunghezza? Significa assolvere alle esigenze di varie richieste, di vari segmenti di pubblico? Certamente sì, ma tra l'altro il festival, il consiglio di indirizzo della fondazione, abbiamo deliberato che il festival durerà fino al 13 gennaio, quindi proprio per garantire il periodo invernale, per tentare la famosa destraggiorizzazione, quindi c'è questa ipotesi di lavoro, che ne andiamo a portare avanti e sicuramente sarà a portare avanti. Qui c'erà una sospensione a settembre, ma poi nel frattempo ci saranno i lavori all'auditorio, in questo tempo abbiamo messo a sistema tutte le questioni intere e all'auditorio, rispetto a sicurezza ed altro, e quindi andiamo con la speranza che per intanto si fermi un po' questa pandemia. L'amministrazione appoggia ed è fautore di questo festival, sia per il progetto odierno che per il progetto pubblico, diciamolo chiaramente, perché qualcuno vuole intrigare, vuole vedere i famosi dietrologi che vogliono paventare pessimismo e vogliono soffiare venti contrari. Io penso che mai il comune di Ravello ha avuto la centralità all'interno della fondazione che la sta vivendo adesso, quindi i risultati li stiamo portando avanti, l'auditorio avverrà un restyling finalmente, grazie al contributo che la regione si ha reggito, si gli ha richiesto, qui diciamo che siamo in perfetta sinergia, e abbiamo un rapporto ottimo con il commissario, che è personalità di grande prestigio a Marina Bove, a Dottoressa Bove, e quindi siamo in perfetta sintonia su cui non ci sta la litigiosità di cui si parlava, che si è parlato più spesso, è andata a parte 48, ma non si superava, superava anche perché abbiamo praticato la democrazia facendo il cosiddetto sport, si diceva, va a dire, quando si vincono le elezioni chi vince va in villaruffolo, va in fondazione, chi perde va a casa, quindi abbiamo evitato quella che era la causa principale della religiosità, perché lei ricorderà che io sono entrato in fondazione due anni fa grazie alla nomine di De Lucca e avevo all'interno della fondazione i rappresentanti della passata amministrazione che ovviamente ne avevano conto, e quindi questa guerriglia che stava all'intento scaturiva proprio da questa situazione. Benissimo, i nostri auguri, i nostri complimenti, ma noi non ci fermiamo qua, nell'atto della serata verremo a importunarla, perché voi sapete benissimo che la vostra signora noi la teniamo come piccolo momento critico, lei che si suggerisce dove dobbiamo mettere l'orecchio, abbiamo visto che il programma si apre con un omaggio a Wagner stasera e quindi verremo a sentire il suo parire. Va benissimo, va bene, magari dopo le offrirò il caffè che non ha pronto. Vi ringrazio, gentilissimo. Buona serata. Grazie.